Amiche e amici tifosi pisani benvenuti o bentornati sul canale Penultimo appuntamento con il calcio mercato Finalmente si avvia verso la conclusione questa sessione estiva Per il mercato nerazzurro grande novità anche questa settimana Con la presentazione ufficiale di Andrea Barberis Durante la presentazione della squadra lunedì sera E ieri con il solito indovinello dell'amministratore della pagina Facebook e Instagram Comunque su tutti i social ufficiali del Pisa Sporting Club L'annuncio anche che è arrivato Mattia Valoti Il trequartista atteso da ormai da settimane se ne parlava E' finalmente arrivato Ieri sera c'è stata anche l'intervista rilasciata sempre lunedì sera Durante la presentazione della squadra Giovanni Corrado Che ha fatto intendere con i suoi sorrisini sempre un po' beffardi Che dovrebbe arrivare anche questa benedetta prima punta di movimento Laggiù davanti che potrebbe veramente far cambiare gli equilibri di questa squadra Si parla anche tanto di uscite Sempre lo stesso Corrado ha detto che se arrivasse la punta Sarebbe l'ultimo acquisto di questa sessione di mercato Ho letto su siti anche abbastanza autorevoli Come tutto il mercato web Che dovrebbero essere in uscita Alcuni giocatori che secondo me non possono essere in uscita Come Calabresi, come Noji E mi sembra anche che facessero il nome di Hermanson Se il mercato in entrata con la auspicata punta si dovesse chiudere Non penso che potrebbero partire questi giocatori Perché comunque Hermanson è un centrale Con Caracciolo sempre un po' in forze A livello fisico non ci si può privare di uno come Hermanson Uno come Noji io non lo darei via neanche se me lo pagassero adeguatamente Perché in mezzo al campo è uno che è detto ai tempi E insieme a Veloso secondo me possono fare la differenza lì Dove si ragiona e dove partono le azioni di attacco Per quanto riguarda Calabresi È vero che sulla destra ci abbiamo già Esteves e Barbieri Viene da un infortunio, è rientrato in gruppo Io lo terrei nel senso che ormai in uscita io farei gli esuberi Come Mastinu, come Ionita, come Zuelli, come Dubicas Persone, giocatori non al centro del progetto Non sono stati neanche presentati lunedì sera Quindi giocatori questi che bisogna sfoltire E mandare a giocare da qualche altra parte O cedere addirittura a titolo definitivo E perdonatemi il termine un po' brutale Toglierseli di torno perché giocatori che non sono funzionali Al gioco di Aquilani, a mio modesto avviso Per alcuni di questi nomi che ho fatto Non sono proprio funzionali al mondo del calcio Comunque, a parte le battute In uscita penso che non ci siano grossi colpi Di giocatori importanti Ma soprattutto degli esuberi che non sono stati neanche presentati Quindi il mercato in entrata si avvia a conclusione Parlano anche alcuni di Elia dell'Atalanta Per rafforzare gli esterni Sugli esterni siamo abbastanza ben forniti Perché a destra c'è comunque D'Alessandro e Arena A sinistra c'è Matteo Tramoni Eventualmente il fratello E ci può giocare anche il Rocco Iureskin Un pochino più avanti, a sinistra Arrivasse un altro esterno sicuramente sarebbe importante Perché il gioco di Aquilani è molto sugli esterni È molto dispendioso Quindi avere anche qualche cambio Senza spompare troppo i titolari sarebbe importante Però l'obiettivo primario secondo me Per il mercato in entrata ora è la punta Io ieri nel post di Benvenuto a Valoti Ho scritto ci vorrebbe una punta da 15-20 gol Ora non so se esistano Comunque in Serie B ci siano L'anno scorso comunque uno come Kidira O altri giocatori come la Padula Sono andati anche oltre Quindi esistere esistono Il Pisa diciamo nel reparto avanzato Negli ultimi anni ha sempre fatto un po' di fatica A trovare qualche giocatore che esplodesse L'anno scorso Gliozzi ne ha fatti 10 Per quello che ha giocato è già stato un grande risultato Ci avviamo alla conclusione Penultimo appuntamento L'ultimo appuntamento sarà lunedì 4 settembre A mercato chiuso con tre partite giocate Così almeno possiamo analizzare un attimo la Rosa Nel suo complesso e alla sua definizione E poi vediamo Ci sono due settimane di sosta Per poter far amalgamare bene tutto il gruppo E poterci giocare veramente qualcosa di importante Quest'anno Perché secondo me la squadra c'è Il centrocampo è Sulla carta Ribadisco sulla carta Uno dei più forti di categoria Se non il più forte di categoria La difesa secondo me va registrata Con i nuovi metodi di Aquilani E poi le all'attacco Appunto deve arrivare questa attaccante Questa punta di diamante Proprio nel vero senso della parola E veramente potrebbe essere Una squadra molto molto competitiva quest'anno Per il resto vediamo un attimo Venerdì c'è l'esordio in campionato A Genova contro la Sampdoria Un esordio veramente molto molto difficile La Sampdoria viene da una bella vittoria a Terni Dove ha giocato anche bene È una squadra che Pirlo sta Veramente facendo giocare Ha giocatori importanti Poi in uno stadio come Marassi Non è mai semplice Perché è un catino Un casino della madonna Probabilmente con pochi tifosi al seguito Visto che l'hanno vietata Ai tifosi senza tessera del tifoso Per cui tutto il tifo organizzato Nero-azzurro Non sarà presente a Genova Vediamo un attimo Come sempre noi cercheremo di andare Di andare a vincere E come sempre Forza ragazzi Forza Pisa